ok ragazzi siamo a palestra io sto facendo questo allenamento che è finito vabbè dopo andrò dalla parrucchiera ci vedo subito ho finito con i miei allenamenti e andiamo ok perpito poi andiamo andiamo dalla parrucchiera eccoci arrivati segniamo ok sentiamoci inizio a sistemarmi questo e fare una congiatura più bella che dopo ve la faccio vedere già anche oggi qua abbiamo fatto questi scignoli ok ora l'unica cosa che dobbiamo fare anzi ripassiamo i vaffichette e vediamo cosa stanno facendo quanto è bello andare sull'altarino mi sto annoiando non devo salvare nessuno solo noi due ci siamo al parco che noio secondo me non è l'altarino quanto è bello l'altarino ma cosa si è rotta cosa ho fatto male è arrivato per gatto per me no è stabile è stabile vabbè ora mi voglio un pochino riposare che ho solparato anche noi ok avete visto cosa stanno facendo ora vediamo un po cosa stanno facendo le lol infatti questo video sarà per vedere cosa tutti i giochi staranno facendo ok vi passiamo le lol oh quanto abbiamo sono siamo proprio stanno invece noi vogliamo andare ancora un po fuori a giocare non possiamo dobbiamo restare qua a dormire perchè domani dobbiamo andare a scuola ma sono ancora pronta beh canteremo in quella per i grandi ecco 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 questo ecco penso ecco 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 cortion buonanotte lunetta buonanotte e celellondere ciao hai visto cosa stavano facendo questo brillantino più spins ciao a tutti vi salutiamo vi ricordo di iscrivervi al canale di attivare la campanellina e ci vediamo in un prossimo video ciao